L'Almanacco della Fede Di Padre Livio Amici, oggi come sapete 7 ottobre La festa della Madonna del Rosario E quindi vorrei dedicare il nostro pensiero Di apertura proprio alla recita del Santo Rosario Che la Madonna ci ha raccomandato In tante sue apparizioni Già a Lourdes Lei aveva una colonna del Rosario d'oro In mano A Fatima Il Rosario per la Pace Vi ricordate E poi A Međugorje Addirittura Tutto il Rosario Quindi Quando la Madonna lo raccomandò Non c'erano ancora i misteri Della luce Adesso ci sono Quindi Tutte e quattro le corone Sono la raccomandazione Che ci fa La Regina della Pace a Međugorje Per i tempi che stiamo vivendo Sui tempi dell'Apocalisse Come vedete anche il Presidente degli Stati Uniti Baideli Ha parlato di Armageddon Possibile Per l'uso di bombe atomiche Quindi L'ha detto con estrema serietà E' proprio la preghiera Con la quale la Madonna ci salverà Dal piano di Satana Di distruggere le nostre vite E di distruggere il pianeta sul quale viviamo Allora Vi sintetizzo in due parole Quello che la Madonna desidera Poi vediamo Un po' una silloge Un compendio dei suoi messaggi Che ci ha dato A Međugorje Innanzitutto La Madonna Vuole il Rosario quotidiano E lo vuole Per tutti Cioè Lo vuole Per i laici Ma in particolare Per i sacerdoti Per i consacrati Che devono essere di esempio Anche maestri Nell'estramento del Santo Rosario Lo vuole in famiglia Oltre che personalmente In famiglia Padre, madre, figlio e figlia E lo vuole Tutto intero Ovviamente Tutto intero Lo ha raccomandato alla parrocchia Tant'è vero che poi la parrocchia Si preparava alla messa Come tuttora Con due rosari Quella parlo della messa Della sera Quella quindi La più frequentata Due rosari Di preparazione E il terzo Di riscanziamento Adesso Con il quarto rosario Quello Ovviamente Per il momento Mi pare Che lo si lascia La scelta personale Però Questa è La volontà di Maria Per la verità La madonna parlo Di tre rosari Poi San Giovanni Parlo II Sicuramente per divina Ispirazione Ha messo i misteri Della luce Sono necessari Perché riguardano Proprio la vita Di Gesù e di Maria L'opera Vi ho detto Vi faccio una siloge Dei messaggi Della madonna Non dico proprio Tutto Tutto Ma quasi tutto Dunque Come c'è Fin dall'inizio La madonna Il 13 ottobre Il 13 agosto Dell'81 Quindi Molto presto La madonna ha detto Pregate il rosario Ogni giorno Quindi è Una recita Quotidiana Ognuno di noi Dovrà avere Una corona Del santo rosario Chi non ce l'ha La chiede pure A radio Maria Che ve la mandiamo Poi la madonna Anche raccomandato All'inizio Della corona Del rosario Pregate sempre Il credo Perché ovviamente La madonna Aveva già Prendeva già Le misure Contro la grande Crisi della fede I veggenti Dicono che la madonna Recitava spesso Il credo con loro Con un fervore Incredibile Poi la madonna Ci spiega Come si recita Il rosario Cioè Meditate ogni giorno Sulla vita di Gesù E sulla mia Pregando il rosario Quindi Se noi passiamo La segna I 20 misteri Del rosario Perché adesso Sono 20 Ogni mistero Ogni mistero I misteri Fin dall'annunciazione In avanti Fino Alla 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 Maria incoronata Del regina Del cioio della terra Ci Offrono il panorama Della redenzione In tutte le sue Tappe E quindi Cari amici Che apre Pagonista Sappiamo Gesù Con Maria Quindi Noi Ogni mistero Dobbiamo anche Se vogliamo Mettere anche un'intenzione particolare Coerente col mistero Per esempio Non solo annunciazione Del batte vergine Maria E si chiede la grazia Per esempio Anche personale Alla madonna Di dire anche noi Sì Alla missione Che Dio ci dà E così via Si arricchiscono i misteri Di un'intenzione particolare E di una riflessione particolare Molto breve Ma che ci aiuti A cogliere lo spirito Del mistero La madonna Ci ha Appunto Attraverso un messaggio A Ivan Questo Il 14 agosto L'84 In Alla vigilia Dell'assunta Ci ha appunto detto Che Che lei desiderava E qui È la prima volta Che c'è proprio questa Questa Richiesta Esplicita Cioè Oltre al digiuno Del mercoledì Al venerdì E il venerdì Ha detto Che ogni giorno Si reciti Il rosario Cioè Misteri gavodiosi Dolorosi e gloriosi A quei tempi Non c'erano ancora Quelli della luce Quindi Come vedete La madonna Ha chiesto Molto Fin dall'inizio Il digiuno Da pane e acqua Il mercoledì Venerdì Venerdì E tutto il rosario E questo perché Perché cari amici Si stava preparando Alla grande prova Che l'umanità Avrebbe Potuto Dover affrontare Nel 1991 Quando appunto Satana Come ha detto La madonna Stava tramando Per giugere Le nostre vite La natura La vita E il pianeta Su quale viviamo Quindi Quando cronò Appunto L'impero sovietico Poi La madonna Ha una domanda Di maria Il giorno Dell'anniversario Del 1985 La domanda Di maria Era questa Che cosa vuoi Dire ai sacerdoti La madonna Ha risposto Così Cari figli Vi esorto Invitare Tutte la pria Del rosario Con rosario Vi vincerete Tutti gli ostacoli Che satana In questo momento Vuole procurare La chiesa cattolica Voi tutti Sacerdoti Recitate il rosario Date spazio Al rosario Grazie Per aver risposto La mia chiamata Cioè Trovate il tempo Per dire il rosario Ve l'ho già detto Ma non perché Voglio Voglio Io Quando c'è stato Il messaggio Della madonna Del 25 luglio Del 2019 Che pronunciava Le prove Sono passato Dalla recita Del rosario Alla recita Di una corona Alla recita Del rosario Con quattro corone E da allora Non l'ho mai saltato Una volta Sono riuscito A dire tutto Tutte e quattro Le corone Ogni giorno Anch'io Mi ho da fare Comunque Ma anzi Direi che Ci aggiungo Molte volte Anche la coroncina I sette patte La vai gloria Poi Bella Questa espressione Che la madonna Ci ha dato Sempre nel 1985 Cari figli Rivestitevi Dell'armatura Contro satana E vincetelo Su un dovere Da compiere Ma poi Lo gusta E non lo lascia più C'è un generatore Di pace Di gioia La corona del rosario Cari figli Oggi vi invito A cominciare A dire il rosario Con fede viva Così io potrò Aiutarvi Cari figli Voi desiderate Ricevere grazie Ma non pregate Io Non vi posso aiutare Dato che voi Non desiderate Muovervi Cari figli Vi invito A pregare il rosario Il rosario Si è per voi Un impegno Da eseguire Con gioia Così comprenderete Perché sono così Da così tanto tempo Con voi E cioè Desidero insegnarvi A pregare Cioè a pregare Col cuore Poi Questo È un altro Bellissimo messaggio Lì i primi tempi La corona del rosario Si ha sempre Dalle vostre mani Come segno Per satana Che appartenete a me Grazie per aver risposto Alla mia chiamata C'è alcuni Se la mettono Anche sul collo E vabbè Per analizzare la Madonna Sul collo C'è di mettere Una crocetta Un'immagine Della Madonna Stessa E comunque È anche bello Insomma Avere la corona in mano Quando si va a letto Si tiene la corona in mano Perché no La si tiene tutta la notte E così E così quando Quando si hanno le mani libere Si sta magari Facendo Riposando Che durante la giornata Si sono A momenti di sosta Si tiene il rosario in mano Lo si dice E poi cari amici La Madonna Pensate Quando c'era Quel messaggio drammatico Del 1991 Del gennaio Quando appunto La Madonna Disse Che Satana È forte E desidera Distruggere Non solo la vita umana Ma anche la natura E il pianeta Su cui vivete La Madonna Disse Avverati il rosario Solo il rosario Può fare miracoli Nel mondo E nella nostra vita E li ha fatti Veramente Cari amici È crollato Il comunismo In Russia E nell'est europeo Senza che ci fosse Quella guerra mondiale Che si temeva Insomma C'era stato un colpo di stato Dall'esercito Poi la Madonna Ritorna di nuovo A chiedere Con forza I rosari consacrati In modo particolare Questo messaggio Dato il 25 agosto Nel 97 Invito in modo particolare Quanti si sono consacrati A mio cuore immacolato Ad essere di esempio Per gli altri Invito tutti i sacerdoti Religiosi e religiose A recitare il rosario E ad insegnare agli altri A pregare Figlioli Il rosario Mi è particolarmente caro Per mezzo del rosario Apritemi il vostro cuore Dio possa aiutarvi Poi vediamo anche questo Di messaggio Che è soprattutto Per quanto siamo malati Stanchi Depressi Abulici Arrabbiati E' 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 una medicina Straordinaria Figlioli La preghiera Detto la Madonna Opera miracoli Quando siete stanchi E malati E non sapete Il senso Della vostra vita Cioè Vagate qua e là Senza meta Prendete il rosario E pregate Pregate Finché la preghiera Diventi Un incontro gioioso Con il vostro salvatore Cioè La bellezza della preghiera Non la si scopre subito All'inizio Ci vuole una disciplina O dire la preghiera In tempi determinati Pronunciando bene le parole A volte Se è necessario Anche alta voce Se si è da soli In modo tale Che ci sia questa disciplina Della preghiera Che prepara Il cuore A gustare poi La gioia Della preghiera Poi Cari amici 25 agosto 2019 Questo è un Passaggio Che ha fatto epoca A quei tempi Figlioli Testimoniati Con il rosario Nelle mani Che siete miei E decidetevi Per la santità Cioè anche Il rosario in mano Anche pubblicamente Anche Senza esibizioni Ma però Senza neanche Timidezze inutili Questi erano tutti i messaggi Dati Della Madonna O i primi tempi Oppure il 25 del mese C'è stato anche Un bellissimo Messaggio Fra quelli Del rosario Dato il 25 Il Scusate Il Il febbraio Del 2019 Voi sapete Che a Miriana I messaggi Vengono dati Sono stati dati Il 2 febbraio Questo del 2 febbraio Del 2019 Che si è aperto così Cari figli Pregate Pregate Ogni giorni Il rosario Quella colonna Di fiori Che mi lega Direttamente Quale madre Ai vostri dolori Sofferenze Desideri E speranze Apostoli del mio amore Sono con voi Mediante la grazia E l'amore Di mio figlio E da voi Chiedo preghiere Le vostre preghiere Sono così necessarie Al mondo Affinché le anime Si convertano Cari amici Quindi Come vedete Come La Madonna Ci è proprio Armati del rosario La regina della pace Lo vuole tutti i giorni Lo vuole Possibilmente intero Lo vuole In famiglia In famiglia Adesso il messaggio Su la famiglia Non li ho letti Tutti Ma ovviamente La Madonna L'ha richiesto In famiglia Esplicitamente E Poi Un'esperienza Da fare Insomma Scoprirete Quanta calma Pace Dà il rosario Come Diventa sempre più Viva L'opera Della redenzione Da momento Dall'annunciazione Fino alla Rolificazione Di Maria Vergine Tutto il panorama Di eventi misteri È straordinario È condensata L'opera Della redenzione È condensata La nostra fede Cari amici E quindi Vorrei dire Se non c'è mai Molta colonna Fate l'arrivata A Radio Maria E Recitate il rosario Personalmente Quando è possibile In famiglia Marito Molie Coinvolgendo anche I figli Ci sono anche I bambini Che imparano bene A dire il rosario E Non lo saltatelo Neanche un giorno Perché Questa è la battaglia È l'arma Della vittoria Cari amici L'arma Della vittoria In questi tempi Dei grandi combattimenti Spirituali Della poca lisse In cui appunto È a rischio La salvezza eterna Di numerivoli anime Ma anche Il futuro dell'umanità Aveva un'arma in mano Bella Facile Accessibile A tutti Va bene per i bambini Va bene per gli anziani Va bene per tutti Ed è Credetemi Quando la Madonna dice Che il rosario Ci infonde forza Luce Coraggio È proprio vero Ci infonde anche Tanta pace Diventa poi Un bisogno A cui È come il mangiare Poi diventa Cioè A un momento Si ha bisogno Di mangiare Di bere Così si ha bisogno Di pregare Si ha bisogno Di dire il rosario Perché Perché le potenze Dell'anima Che molte volte Sono soffocate Dall'effimero Vengono risvegliate Dalla preghiera Bene cari amici Questo era dunque Il nostro tributo Questa bellissima festa Del 7 ottobre Che ricorda La grande battaglia Di Lepanto Che fu Una battaglia Vinta Grazie al rosario Allora La cristianità Difendeva Se stessa E la sua fede Dall'aggressione Dei turchi Ma anche le altre battaglie Che sono succedute Quella poi Quella poi Di Vienna Poi quella Di Diciamo Di Budapest Poi quella Di Belgrado Con la quale I turchi Vennero allontanati Dall'Europa La stavano islamizzando Sono avvenute tutte All'insegna Del santo rosario Bene Anche questa battaglia Adesso Per la sopravvivenza Dell'umanità E questa battaglia Per la vittoria Della fede cristiana Sono tutte le eresie Avviene Cari amici Come vedete Con la ricina Del santo rosario L'almanacco della fede Di Padre Livio Grazie a tutti